Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Ma, secondo voi, la storia di una bellissima ragazza islandese destinata a diventare Miss Islanda, che tutti quanti già vedono sul palco di Miss Islanda. Didatticamente, a cosa potrebbe servirci? Altro che se può servirci, altro che se può servirci. In realtà, la nostra Ecla, è il nome della protagonista di questo romanzo di Ava Olaf Dottir, di diventare Miss Islanda non ne vuole proprio sapere, lei vuole diventare una scrittrice, una scrittrice negli anni Sessanta, perché è negli anni Sessanta che si svolge questa storia. Immaginate i pregiudizi, gli sguardi allibiti degli uomini che sognano questa ragazza sul palco di Miss Islanda e che invece la vedono frequentare poeti, scrivere poesie. Immaginate i pregiudizi contro i quali dovrà lottare. Ascoltate. Dice un'amica di Ecla, gli uomini nascono poeti, è più o meno all'età della cresima che entrano nel loro fatidico ruolo di geni. Non importa che scrivano libri oppure no, le donne invece diventano sessualmente mature e mettono al mondo i figli che gli precludono la possibilità di scrivere. Quindi immaginate la nostra Ecla che ha il nome di un vulcano e questa passione insomma che le brucia dentro, la passione della scrittura, che storia dolorosa dovrà attraversare. Allora tutto è chiaro didatticamente, immaginiamo un percorso tipo l'emancipazione, della donna nel corso del ventesimo secolo, magari partendo dalla famosa frase di Simone de Beauvoir, donna non si nasce, si diventa, una frase che calza proprio a pennello per la nostra Ecla. E allora buon libro, Miss Islanda, ve lo consiglio caldamente e mi raccomando, mi raccomando, frequentate il nostro sito e i nostri canali social. che si diventa, un po' di sottopla, non si nasce, si diventa, un po' di sottopla. E allora buon libro, Miss Islanda, ve lo consiglio caldamente e mi raccomando, è una che cosa e il suo tempo è un po' di sottopla. E allora buon libro, Miss Islanda, vi è un po' di sottopla. Grazie a tutti